I am Italian, Daniela Santanché, Minister of Tourism. Sono molto contenta di essere a questo vertice. Ritengo che sia importante che l'Europa faccia delle politiche sul turismo comuni, visto che il turismo è un asset importante per tutta l'Europa. Per cui mi auguro che da questi lavori, ascoltando anche i miei colleghi, possiamo sempre di più fare una squadra, una squadra che deve essere vincente, perché credo che l'Europa nei confronti di tutti i turisti del mondo ha veramente un grande appeal.